domenica c'è la domenica delle palme, ieri lo sai l'amica che mi ha portato via quella è peggio del consiglio, tu sei la bella allora, adesso lo vedo con il mandoletto, perché c'è la tesina era la festa della madonna dolorata, ieri era la domenica della madonna dolorata e c'era questa festa, mi chiamavo di portarsi a mandarsi con questa messa c'era la banda, no, poveretto, le quattro e poi si manda dalla Fernanda ma quanto stanno la foresta, non ci vuole la foresta non ci vuole la foresta non ci vuole la foresta un braccio, il signor che va a fare una volta, un di due la faccia io vado sotto, io che non soppineva di casa io era Gesù, ne sai очse ho fatto, non soppineva di casa io le ho fatto, non lo soppineva di casa mi mi sento più Bildare che lo fa bene è bene io la guardo le sulle pallone ma pensate che abbiamo tutta la vita bella tutta coltivata guardale guardale forse ora va di nuovo là dentro ma già sei qui devo vedere dove va ma c'è questa bestia voglia guarda che qui al boschetto di qui c'è ancora molto si l'oreana l'ha vista oddio cammina vado sopra io lì anche il boschetto che ore sono? e non lo so penso metto al giorno ci sarà un poco prima ma siamo là in mezzo a dove e dai cammina il riccio cammina riccio Grazie a tutti.